ciao a tutti benvenuti lo wassa fatma rica oggi vi faccio mini kick senza glutine e facilissimi e buonissimi con due gusti e il gusto di vaniglia e il gusto di cioccolato se vi interessano state con me fino alla fine i denti due uova 70 grammi di olio di semi 40 grammi di cacao un pezzicchino di sale un cucchiaio piccolo di levito per dolci 100 grammi di farina senza glutine o una postina di vaniglia le uova nella ciotola come vedete il sale lo zucchero tutto con frullatore 2 minuti 2 minuti aggiungo la postina di vaniglia farina piano piano quello con una spatola la mia pasta di menniche che è pronta la divido in due la metà ci metto il cacao e scolo bene come vedete come gli menniche che sono pronte la devo mettere nella carta dei menniche come vedete prendo mezzo cucchiaio grande di torta come vedete lo metto nella carta mezzo cucchiaio di quello di vaniglia lo metto continuo così finché non arrivo la metà di carta ho messo tutta la mia torta nelle carte come vedete ho preso un bastone per darla un bell'aspetto lo giro in questo modo come vedete nel video accendo il forno 170 gradi lo lascio mezz'ora in forno ho mezz'ora migli e mini che sono pronte e l'ho messo nel piatto ho tagliato una così vedete le stratte e leggerissimi sono buonissimi e veramente facilissimi e spero che vi piacciono se vi piacciono se vi piacciono mi fate il like condividete vi iscrivete a domani un altro video nuovo prossimo video vi faccio vedere come l'ho decorato con mascarpone e caramello arrivederci arrivederci